Oggi con la questione 45 parliamo dell'audacia, così come ce la propone Tommaso, anche con aiuto delle due etiche di Aristotele. Allora, l'audacia è contraria al timore? Secondo Tommaso, secondo Aristotele, l'audacia è contraria al timore. Qui però ci sono delle obiezioni che vedremo in seguito. Infatti Aristotele dice l'audacia è contraria al timore. E' caratteristico dei contrari essere tra loro massimamente distanti. Come dice Aristotele, notate che tutte queste citazioni, quasi tutte, vengono fuori dalle due etiche di Aristotele. Perché una volta i filosofi scrivevano anche delle etiche. E la etica è l'opera che ci dice quello che dobbiamo fare, il dover essere tipico di Kant. Ora, quello che più dista dal timore è l'audacia. Infatti, qui c'è la spiegazione. Chi teme scappa via dal danno imminente, perché pensa di esserne sopraffatto. L'audacia invece non teme, non rifugge e affronta il pericolo. Quindi, il timore scappa via. L'audacia va incontro al pericolo. In questo senso, timore e audacia sono contrari. Vediamo le obiezioni che possono darci una prospettiva ancora più chiara. Sant'Agostino insegna che l'audacia è un vizio. Infatti, nella terminologia comune, l'audacia ha assunto spesso questo significato. Ehm, ma che audacia! Quasi come se l'audacia, invece di essere una virtù, una qualità, fosse un vizio. E l'audacia oggi si può intendere anche in questa eccezione del termine. Vediamo allora quando la dobbiamo considerare semplicemente una passione, invece quando la dobbiamo considerare anche un vizio. Ora, in riferimento alle parole di Agostino, qui si conclude. Un vizio si oppone alla virtù. E non ossendo il timore una virtù, il timore non è una virtù, perché la virtù implica una resistenza, una forza, una capacità, il timore invece fugge, no? È proprio tutto il contrario. È una tipica passione. Vi ricordate i vari significati che può assumere i termini di passione? Ma, in questa prospettiva, proprio è il significato che più viene scelto, patire qualcosa, perché qualcosa ti è sottratto, no? Quindi il timore non è una virtù. È chiaro che l'audacia, se è un vizio, ebbè non può essere contrario al timore. Un vizio non si oppone a un altro vizio. Vediamo la spiegazione di Tommaso, che si rifà a pensieri già esposti in precedenza. Tutti i nomi delle passioni, ira, audacia, etc., si possono prendere in due sensi. Primo, in quanto indicano semplicemente un moto dell'appetito sensitivo, verso un oggetto buono o cattivo. E allora sono soltanto nomi di passione. Passione è un termine generico, è un moto dell'appetito sensitivo, che questo moto può essere buono o cattivo. secondo, in quanto indicano pure un allontanamento dall'ordine della ragione. Un giovane, come tanti miei ex-alunni, che sfrecciano sulla moto come dei matti, e qualcuno ha già visto degli effetti piuttosto negativi, e uno di fronte a certe acrobazie esclama ma che è audacia, ma non certamente per definire l'audacia una virtù, ma per definirla col senso di una passione che si allontana dalla ragione e che quindi diventa vizio. Allora sono vizi quando si allontanano dalla ragione, dal buon senso, no? E Agostino parla dell'audacia in questo secondo senso, non nel primo. Ecco perché la definisce vizio. Una cosa ha un solo contrario. Ora, il contrario del timore è la speranza. Io temo, io ho speranza. Ma se il contrario del timore è la speranza, non può, il contrario del timore, essere l'audace. Vediamo ancora qui un chiarimento importante. Le passioni dell'era civile hanno una duplice contrarietà. In base innanzitutto all'oggetto, quale bene o male. In questo senso, il timore si contrappone alla speranza. Il timore del male si contrappone alla speranza del bene. Ma ci può anche essere una contrapposizione in riferimento all'atto in base all'opposizione tra l'accedere, cioè andare incontro all'oggetto, o l'allontanarsi. In questo senso, il timore si allontana dall'oggetto che è il male. L'audacia, invece, lo affronta e gli si avvicina. L'audacia accede, il timore recede. E' in questo secondo senso che noi diciamo che l'audacia si oppone al timore. Ogni passione esclude la passione opposta. Ora, il timore esclude la sicurezza. Se uno teme, vuol dire che non è sicuro. Alcostino scrive che il timore impedisce la sicurezza. Dunque, il contrario del timore è la sicurezza e non l'audacia. Il problema è che la sicurezza non è il contrario del timore. Perché sicurezza toglie semplicemente al timore la caratteristica sua essenziale. Uno può essere sicuro, ma non essere audace. Non temere, ma non essere audace. L'audacia non implica solo la sicurezza, ma implica, come abbiamo visto, l'accedere, lo sfidare il male, affrontarlo con la chiara determinazione di superarlo. Infatti leggiamo chiamiamo sicuro chi non teme. Perciò la sicurezza si contrappone al timore come privazione. Quindi non c'è dubbio che l'audacia includa la sicurezza, ma l'audacia non si riduce alla sicurezza. L'audacia è decisamente qualcosa di più. E l'abbiamo visto in riferimento all'accedere e al recedere. Passiamo all'articolo 2. Potrebbe l'audacia non derivare dalla speranza? Se io sono audace contro un male è perché spero di superarlo. Quindi è evidente che la speranza è il presupposto dell'audacia. E su questa breve riflessione noi abbiamo già una risposta. L'audacia deriva dalla speranza. Infatti uno prende ad assalire audacemente un male temibile perché spera di vincere altrimenti si guarderebbe bene dall'affrontarlo. Invece la disperazione deriva dal timore. Uno infatti dispera non potrò mai superare questo male perché teme le difficoltà che accompagnano il benesperato. E direi che la risposta è già chiara in questi termini. Però io ho scritto qui sintesi. In questo rispondeo Tommaso ogni tanto si presenta in questa prospettiva riprende diversi argomenti e li sistema con ordine. Magari si ripete però a volte ripetuta Juvent dice il proverbio questo sistemare ordinare può darci un aiuto. ogni moto della facoltà patiativa si riduce a una propensione ad una fuga. O fuggo o mi avvicino. E sia l'una che l'altra possono essere per sé o per accidents. Vediamo di intendere che cosa noi vogliamo significare con il per sé o per accidents. Sono per sé la propensione per il bene e la fuga per il male. Non c'è dubbio. Sono invece per accidents la propensione verso un male in vista di un bene e la fuga da un bene motivata da un male che l'accompagna. Sostanzialmente noi cerchiamo sempre il bene cerchiamo sempre di fuggire il male ma a volte si affronta il male per raggiungere un bene e allora qui abbiamo una propensione per accidents oppure fuggiamo un bene nel timore che possa sopraggiungere un male mentre per sé la cosa è diretta fugo un male oppure propendo per un bene la propensione verso un male deriva da quella verso il bene perché come ho detto vado verso il male perché so come abbiamo visto qui e qui l'ho messo in evidenza per accidents la propensione verso un male è l'audacia io affronto un male propendo verso un male per raggiungere un bene e qui riprende la propensione verso un male deriva da quella verso il bene come la fuga di un bene deriva dalla fuga da un male la propensione verso il bene corrisponde alla speranza la fuga dal male il timore questo è per sé l'aggressione di un male temibile corrisponde all'audacia per accidents e la fuga di un bene arduo alla disperazione per accidents quindi vedete che non sempre io fuggo direttamente il male o mi appropinco al bene questo è un movimento che è diretto per sé ma potrebbe anche esserci un movimento per accidents attenzione che l'audacia proprio si presenta nella prospettiva del per accidents io affronto un male vado incontro ad un male è qualcosa contro natura ecco perché l'audacia si predica dell'essere umano perché vado incontro al male perché voglio raggiungere un bene per superare il male lo affronto ma esclusivamente perché la mia speranza è quella di raggiungere il bene detto questo vediamo alcune obiezioni l'audacia riguarda cose cattive temibili invece la speranza riguarda il bene dunque hanno oggetti diversi perciò l'audacia non deriva dalla speranza non è vero che hanno oggetti diversi perché l'audacia affronta cose cattive ma in vista del bene né più nemmeno come la speranza si muove in vista di un bene nel primo caso ripetiamo l'audacia per accidents la speranza invece per sé l'audacia dimira un bene cioè la vittoria ma tendere verso il bene arduo a partire dalla speranza dunque l'audacia si identifica con la speranza no perché la speranza punta direttamente verso il bene il bene è l'oggetto immediato l'audacia invece puntasi verso il bene ma per arrivare a quel bene deve affrontare il male quindi non sono la stessa cosa non sono le stesse passioni la speranza è per sé l'audacia è per accidents andiamo all'articolo 3 sembra che qualche deficienza possa causare l'audacia stiamo parlando di deficienza questo termine che è stato defenestrato perché sembra quasi un insulto deficere vuol dire mancare di qualcosa essere povero in riferimento complemento di limitazione ad un particolare ambito e non è un insulto è un verbo che nella nostra prospettiva ratina senza necessariamente pescare termini anglosassoni ha un senso ben preciso ma può una mancanza una deficienza qualche cosa che non ci permette di agire adeguatamente essere la causa dell'audacia sì indirettamente vediamo vediamo innanzitutto la riflessione di Aristotele si produce l'audacia quando nell'immaginativa sorge la speranza di essere vicino ai mezzi di salvezza e di aver lontane le cause del timore altrimenti uno non è udace evidente ora le deficienze o si riducono alla lontananza dei mezzi di salvezza mi mancano i mezzi per agire per combattere o alla vicinanza o alla vicinanza delle cause del timore o troppo vicino il pericolo perché io vi posso organizzare parliamo sempre di deficienze quindi le deficienze in sé non possono accrescere l'audacia se mai la demotivizzano perciò nessuna deficienza può essere causa dell'audacia e qui Tommaso fa due distinzioni la seconda non è molto importante perché di nuovo ricadiamo nell'aspetto fisiologico con delle riflessioni che potrebbero non essere condivise anche se molto spesso su certe riflessioni psicologiche di oggi io ho i miei dubbi però non sono un esperto su questi argomenti preferisco tacere d'altra parte non mi servono la causa dell'audacia si può considerare sotto due aspetti l'aspetto del modo appetitivo che dipende dalla conoscenza conoscenza se non c'è conoscenza ecco che il modo appetitivo abbandonato a se stesso è quanto mai vago e vedremo in seguito come si può presentare tuttavia anche se vago può determinare l'audacia conoscenza che a un certo punto ci fa considerare possibile la vittoria o mediante il nostro potere la robustezza del corpo l'esperienza dei pericoli l'abbondanza delle ricchezze e altre cose simili oppure mediante il potere di altri quindi l'audacia in questo senso si fonda esclusivamente sulla valutazione dei mezzi questi mezzi sembrano adatti per affrontare il pericolo e naturalmente sotto questo primo aspetto il timore viene escluso ma c'è anche un'alterazione fisiologica l'audacia viene causata da ciò che produce il calore intorno al cuore scrive infatti il filosofo vediamo cosa scrive non ho riportato tutto non ho guardato tutto perché ripeto non tutto potrebbe essere condiviso e su tante cose io non ho una conoscenza sufficiente per dire sì può essere accettato in parte o tutto o si deve ributtare non c'è dubbio però che non c'è dubbio e lo vedremo nelle obiezioni che questa alterazione fisiologica può determinare l'audacia anche senza aver valutato sufficientemente i mezzi per affrontare il pericolo il filosofo fa un esempio nel libro dei problemi gli avanti del vino sono più audaci per il calore del vino infatti abbiamo già detto che l'ubriacchezza contribuisce al vigore della speranza poiché il calore del cuore allontana il timore e causa la speranza però su questo argomento preferisco preferisco affrontare l'obiezione il filosofo scrive che gli amici del vino sono forti e udaci ora dal vino deriva la deficienza dell'ubriacchezza come può o meglio l'obiezione dice allora la deficienza ci fa più forti non è che la deficienza ci fa più forti e vedremo che è un denominatore comune a tutte le tre obiezioni è l'incoscienza che ci fa più forti e ci fa più audaci cioè l'incapacità di in una particolare condizione di valutare effettivamente i mezzi che io ho a disposizione per superare un pericolo il vino molto spesso non ci permette di essere oggettivi però a noi interessa valutare la prospettiva di chi è audace non c'è dubbio che chi è audace crede nell'ubriachezza magari con i fumi dell'alcol che annebbiano la ragione di poter superare un pericolo ossia il soggetto crede di essere forte l'ubriachezza produce l'audace perché dà la persuasione di una certa grandezza quindi chi affronta il pericolo si sente forte anche se poi nella realtà questa è una deficienza andiamo a vedere il secondo che qui abbiamo parlato di un'ubriachezza parleremo dell'esperienza parleremo di una ingiustizia subita coloro i quali sono audaci non hanno sperimentato i pericoli sono inesperti ma proprio perché sono inesperti e non hanno davanti le idee chiare e non hanno davanti attraverso le idee chiare i pericoli si sentono forti e capaci di affrontare un pericolo quindi anche in questo caso la deficienza direttamente non ostacola l'audacia la risposta è molto chiara gli inesperti non conoscono la propria debolezza e la presenza dei pericoli quindi la loro audacia delima dall'avere eliminato le cause del timore perché se conoscessero le loro deficienze non andrebbero incontro al pericolo quindi capite solo per accidents noi possiamo pensare che l'ubriachezza e l'inesperienza che sono deficienze possono determinare l'audacia tre chi ha subito un'ingiustizia d'ordinario più audace come le bestie quando sono percosse osserva Aristotele ma subire un'ingiustizia non è che una deficienza io sono stato offeso io mi trovo in una condizione magari di povertà perché questa ingiustizia mi ha sottratto del denaro come mai perché dice il filosofo chi ha subito un'ingiustizia diviene più audace pensando che Dio viene in aiuto a chi soffre ingiustamente allora in riferimento a questa speranza giustificabile o no si sente più forte tutto ciò dimostra che un difetto può causare l'audacia eccolo qui il termine che a noi interessa peracidex un difetto peracidex abbiamo parlato dell'ubriacchezza abbiamo parlato dell'inesperienza adesso parliamo di un'offesa peracidex può determinare ma solo peracidex non per sé l'audacia in un soggetto in quanto implica una certa superiorità vera o presunta noi adesso non entriamo in merito noi a noi interessa solamente stabilire che l'audacia può anche essere determinata da questa presunzione ultimo articolo è il 4 su questo articolo preferisco fermarmi esclusivamente al set contra e al respondeo sembra che gli audaci non siano più pronti in principio che nel lato del pericolo Tommaso sostiene il contrario gli audaci sono più pronti all'inizio che nel momento in cui stanno affrontando sono nel bel mezzo del pericolo come mai? perché qui viene fuori una vera e propria virtù quella che non può confondersi con una passione abbiamo visto che l'audacia potrebbe anche essere confusa con un vizio così avete visto lo definisce Agostino e già qui introducendo questo termine troviamo una virtù che non può essere contestata il coraggio ma che differenza c'è tra audacia e coraggio vediamo Aristotele ha scritto che gli audaci prima del pericolo sono pieni di entusiasmo e di volontà ma in esso tendono a cedere come mai? le facoltà sensitive non possono confrontare e vagliare le singole circostanze di una cosa ma hanno un giudizio immediato così può capitare che nella prensione immediata uno non sia in grado di conoscere tutte le difficoltà di un'impresa e di qui sorga un moto di audacia che porta ad affrontare il pericolo perciò quando il pericolo viene sperimentato costrui avverte una certa difficoltà superiore a quella immaginata di cui la sua tendenza a cedere ma non è sempre così potrebbe invece essere così perché non abbiamo valutato sufficientemente la situazione perché siamo stati guidati dal vino perché siamo stati guidati dall'inespedienza perché abbiamo riposto troppa fiducia in presunti amici nelle nostre forze eccetera eccetera quindi l'audacia porta l'audace ad agire con forza con decisione poi molto spesso non è detto che debba passare al timore ma può passare a perdere una condizione che perde l'entusiasmo ecco la differenza tra chi si abbandona la facoltà sensitiva e invece chi utilizza la ragione invece la ragione è capace di discutere tutto ciò che contribuisce alla difficoltà di un'impresa e qui abbiamo una virtù che tratteremo in seguito ed è il coraggio i coraggiosi i quali affrontano i pericoli dietro il giudizio della ragione dopo aver valutato attentamente il pro e il contro le reali forze a disposizione le hanno comparate hanno messo in campo l'esperienza proprie degli altri non sono stati il loro giudizio non è stato affuscato da delle passioni da delle da dei disturbi fisiologici allora in principio sembrano poco decisi perché il problema c'è sempre no? affrontare un pericolo è sempre una un punto interrogativo è qualche cosa che ci può mettere per chi riflette anche in crisi perché non si sa mai come le cose possono finire poiché liberi dalla passione iniziano con la dovuta con cautela ma quando sono in mezzo ai pericoli non sperimentano imprevisti perché li hanno già previsti anzi da loro trovano che le difficoltà sono minori di quelle immaginate perciò a conclusione l'accidia scusate che l'accidia il a volte non mi vengono neanche le parole l'audacia può anche essere definita vizio pensate un po' e l'audacia può anche indirettamente per accidents svilupparsi il coraggio che ha come fondamento la capacità caratterizzante dell'animale ragionevole che è l'uomo porta ad una virtù che non può essere contestata e che è il coraggio